Dopo l'incontro siamo riusciti a contattare i due pugili nella saletta dell'antidoping, nonostante le proteste del medico. Sentiamo prima Niki, chiaramente molto amareggiato, si sente anche un po' defraudato per l'esito di questo incontro e non possiamo dargli torto. Sono lezioni che servono anche per migliorare, anche se non credo di aver perso poi così tanto. Ho visto molte scorrettezze, ho ricevuto molte scorrettezze, non importa, però accetto tutto, anche la sconfitta. Ho visto che comunque il pubblico è rimasto contento uguale, io sono contento così. Sicuramente ringrazio tutto il pubblico che mi ha seguito e sicuramente ci sarà modo di rifarsi senza problemi. La nipotai è stata molto sportiva, dopo aver chiarito una piccola polemica che era nata a livello di stampa circa un mese fa, si è dichiarato comunque soddisfatto non tanto della sua vittoria quanto di averla ottenuta contro un grandissimo pugile, ma sentiamo le sue parole. Per me è una grossa soddisfazione, ho vinto il suo titolo con un uomo veramente di valore in casa e niente, sono contento.